Torna in piazza la compagnia teatrale Antidoto di Gela, ultimi appuntamenti prima di tuffarsi nella stagione autunnale che vedrà Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco e l'arresto del cast salire sul proscenio del teatro di Macchitella. È già in corso la stesura della nuova programmazione. La stagione scatterà i prossimi 23 e 24 novembre, prevista l'esibizione anche di Pippo Franco. Dicevamo degli appuntamenti estivi, appuntamenti in piazza Roma. La rassegna La Gorgone del teatro Antidoto in piazza Roma continua il 15 e il 16 perché come sapete per il maltempo delle commedie sono state rimandate. Allora il 15 abbiamo la compagnia di San Cataldo, il 16 invece c'è la compagnia L'Antidoto Ci Siamo Noi con la grandissima e bellissima commedia Servizio in Camera e ci sarà anche il gran calà di premiazione per tutte le compagnie che hanno partecipato alla ventesima edizione della Gorgone, premio Vincenzo Pace. Perciò vi aspetto in piazza Roma il 15 e il 16.